Tiro con l'arco, dinamico. Cosa significa? Si tratta di un tiro verso altre persone, creando delle punte per le frecce, per i proiettili, che sono di assoluta sicurezza. Il gioco è coinvolgente in una maniera che ti permette di dar sfogo a quello che tu vuoi fare, cioè prendere un arco e tirare verso un altro. È una cosa impensabile normalmente. Oltre ad abbinare la questione del movimento, quindi del dinamismo, sul fatto di raccattare le frecce sul campo, correre dietro a un bersaglio, spostarsi per evitare di essere colpiti, c'è una carica aggiuntiva che risveglia i nostri istinti ancestrali, quelli del cacciatore, quelli del guerriero. Dominati dalla massima sicurezza sono estremamente importanti nello sviluppo della persona, specie per i ragazzi o nell'uso coerente e consapevole della propria capacità nel caso di persone più avanti negli anni. È la cosa più bella che ci possa essere.